Signori, bentornati in un nuovo video flash. Non vi siete ancora iscritti all'OP Crew East, il torneo del TCG di One Piece che si svolgerà a cavallo tra ottobre e novembre a bordo di una nave da crociera? E se vi dicessi che c'è la possibilità di vincere un biglietto? Presso il centro commerciale Gran Sasso, piano d'accio a Teramo, infatti, il 13 luglio ci sarà l'unica tappa abruzzese organizzata dai signori di Loop Games, in collaborazione con i responsabili della Crew East e sponsorizzati da HGE, dove, in un evento a tema One Piece, il vincitore potrà assicurarsi una copia personale del biglietto di ingresso sulla Magnifica, una delle navi più belle della flotta MSC. Ma non solo, perché, oltre all'ingresso, la griglia premi risulterà essere piuttosto succosa. Al primo classificato, difatti, andranno anche un box di OP07 e 4 binder della Premium Car Collection Best Selection Volume 1, così da avere il playset di ogni variant, stesso insieme di premi per il secondo, 12 booster pack, un solo Best Selection ed un secondo binder, questa volta trattasi della Live Action Edition per il terzo, unicamente quest'ultimo ed ulteriori 12 booster per il quarto, 8 pacchetti, 4 per tipo, rispettivamente dell'EB01 e di OP07, anche qui assieme a Live Action per il quinto e sesto, 4 pack ed il, nuovamente, Live Action per il settimo ed ottavo, ed un singolo EB01 ed un pacchetto di partecipazione per tutti gli iscritti. In più saranno disponibili dei premi extra, come un playmat esclusivo alla top 16, più un tappetino winner per il vincitore dell'evento e la presenza dei winner pack per la top 4. Notate che i premi appena menzionati potranno variare a seconda del numero di partecipanti, che per il torneo è stato fissato a massimo 64 giocatori. Ok Arconte, ma come funzionerà? L'incontro al centro commerciale ci sarà alle 9.30, con l'inizio del torneo alle ore 10.30. L'iscrizione dovrà essere effettuata contattando gli organizzatori attraverso il numero che vi lascerò nel commento fissato in alto e il pagamento sarà anticipato e la quota avrà un costo pari a 35 euro. Si svolgeranno in una sola giornata sei turni di Svizzera da 35 minuti ciascuno, best of one, e la top 8, sempre con durata massima fissata a 35 minuti e sempre best of one. L'unico incontro che si disputerà alla meglio delle tre partite, senza limiti di tempo, sarà la finale, al termine della quale verrà incoronato il vincitore del torneo, che si assicurerà l'autobottino messo a disposizione per la giornata dagli organizzatori. Ma le novità non finiscono qui, perché in loco ci sarà anche un giudice di gara ufficiale, ovvero Graziano Zinanni, che supervisionerà attentamente ogni dinamica di gioco, dando risposta a qualsiasi dubbio che nascerà durante i diversi match che si susseguiranno per l'intero arco della giornata, e una postazione streaming gestita dal sottoscritto, dove si andrà a descrivere ogni singola mossa che verrà svolta, portando comodamente a casa vostra gli scontri tra i leader più temibili che si alterneranno al tavolo della diretta. Quindi cosa state aspettando? Assicuratevi il vostro posto personale, prenotando al numero che, come già accennato, vi lascerò nel commento fissato in alto, così da poter competere assieme ad altri re dei pirati, con l'intento di posare sulla vostra testa la corona del vincitore. E voi, quale leader giocherete per l'occasione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.